È appena terminata la prima puntata della nuova edizione del Maurizio Costanzo Show. Tanti gli ospiti intervistati da Maurizio Costanzo, tra i quali anche Tommaso Zorzi. In questa occasione il giornalista ha chiesto a quest'ultimo di parlare del suo rapporto con Francesco Oppini dentro e fuori la casa del grande fratello Vip. E a quel punto Tommaso Zorzi non ha fatto mistero di aver provato un forte sentimento nei suoi confronti, aggiungendo di provare una sana invidia per la sua fidanzata. Non lo volevo nominare. Francesco è stato il mio grande amore, mi sono dichiarato e ho messo da parte il mio orgoglio. Ammetto che provo una sana invidia per la sua fidanzata. Tommaso Zorzi ha poi spiegato di provare invidia per la fidanzata di Francesco Oppini perché crede che abbia un uomo al suo fianco con la U maiuscola. Questo è da dire. Ha poi dichiarato di sentire spesso e volentieri la mamma di Francesco Oppini, Alba Parietti. E su quest'ultima ha rivelato che gli ha dato tantissimi consigli per muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Mi chiama 5 a 6 volte al giorno, c'è una forte sinergia tra di noi. Lei mi dà tanti consigli per muovermi al meglio in questo mondo.